Per andare avanti con le notizie è arrivato il momento della nostra rubrica sugli italiani all'estero, uno spazio che abbiamo inaugurato settimane fa per raccontare senza filtri gli sviluppi di questa emergenza negli altri paesi. Oggi andiamo negli Stati Uniti a Los Angeles in California, abbiamo in collegamento Linda De Luca che è una store manager. Buonasera Linda, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Allora Linda innanzitutto come stai? Bene, bene, siamo a casa, tranquilli per adesso. Ci spieghi un po' qual è la situazione là negli Stati Uniti? Noi sappiamo che comunque c'è il lockdown, anche se il Presidente Trump, ma anche diversi governatori e anche i cittadini stanno spingendo affinché l'economia riparta al più presto. Sì, infatti qua stanno cercando di riaprire al più presto possibile e dipenderà dagli Stati decidere se aprire o meno. Qui a Los Angeles per adesso siamo ancora in lockdown, anche se fortunatamente i numeri sono abbastanza buoni, per cui credo che per i primi di maggio si possa riaprire e si possa più o meno ricominciare una vita abbastanza normale. Me lo auguro, ve lo auguro. Ma invece per quanto riguarda le proteste appunto dei cittadini che negli ultimi giorni sono scesi in piazza affinché si riapra al più presto, qual è la situazione che si è verificata nella tua città? Qui è calmo, perlomeno anche dove sono io, ma anche a Los Angeles, proprio città, downtown Los Angeles. Non è che ci sono stati dei disturbi, per cui le persone qui aspettano ancora, penso, la fine di aprile o i primi di maggio, prima di, appunto, per vedere se il governo californiano riapra o no. Poi, non lo so, ci potranno anche qui essere delle persone, ci potranno anche qui essere dei gruppi che si ribellano al fatto di essere stati chiusi in casa per un mese, perché anche qui vogliono riaprire, vogliono riaprire business, vogliono cominciare una vita normale. Per adesso comunque è tutto tranquillo. Tu cosa ne pensi personalmente? Credi sia troppo presto per pensare già a un allentamento delle misure o che è il momento di farlo? Veramente non saprei. Qui dove sono io, visto che sembra tutto abbastanza tranquillo, penso che si potrebbe riaprire, anche perché le persone sono molto… anche perché le persone vedo che seguono le direttive del governo per quanto riguarda mascherine, guanti, essere a distanza l'uno dall'altro di un metro e mezzo e tutto il resto, perché anche vedo quando vado a fare la spesa che tutti hanno le mascherine, tutti hanno guanti, tutti seguono le direttive che devono seguire. Per cui dovessero riaprire, penso che qui almeno per il momento non ci sarebbero dei grossi problemi. Poi non lo so, non sono un medico, non sono un virologo, per cui devo sentire quello che dicono i dottori. Certo, tu sei una store manager, abbiamo detto. Com'è la situazione al lavoro? Sappiamo che molti americani, addirittura circa 22 milioni, sono rimasti disoccupati da quando è scattata questa pandemia. Sì, infatti, qui adesso i negozi sono chiusi, specialmente i negozi di abbigliamento e queste cose qui perché non servono. Però adesso non so esattamente cosa succederà, dipenderà dalle compagnie. Alcuni negozi più piccoli magari non potranno riaprire perché ci hanno rimesso tanti soldi e non riusciranno ad andare avanti. Anche se comunque sia il governo americano sia stato abbastanza generoso nell'aiutare i piccoli business. Per cui è tutto un punto interrogativo. Che meglio questo particolare? In che senso il governo è stato generoso? Beh, perché ha dato i soldi che aveva promesso nel tempo che aveva promesso. Per cui le persone hanno potuto usufruire di questi soldi in tempo da poter pagare i loro conti, gli affitti e tutto il resto. Non è che hanno accumulato delle bollette, hanno accumulato dei conti che poi devono pagare tutti insieme più avanti. Ok. Linda, da quello che capisco anche dal tuo accento, sono diversi anni, direi tanti, che tu ormai vivi negli Stati Uniti. Ma avevi eventualmente in programma di rientrare in Italia anche per una breve vacanza? Se sì, come è andata? L'ultima volta che sono venuta in Italia sono stati due anni fa che sono andata a trovare la mia famiglia all'isola d'Elba. Quest'anno avevo in programma di andare, però visto che di solito io compro i biglietti verso gennaio o febbraio, però non sono riuscita a venire e mi dispiace anche perché mia mamma, mie sorelle, miei fratelli sono tutti là, per cui speriamo l'anno prossimo. Speriamo, infatti. Che cosa ne pensi invece della situazione che si sta verificando in Italia? Ti preoccupa? È difficile da dire perché politicamente un po' mi preoccupa, per la salute di tutti gli italiani mi preoccupa. Da qui, almeno da così lontano, sembra che ci sia tantissima confusione, che i politici vogliono in pratica solamente il potere, ma non il bene del popolo italiano, che invece si meriterebbe qualcosa di molto, molto meglio. Perché gli italiani sono lavoratori, perché gli italiani sono persone che ci tengono alla loro cultura, ci tengono alle loro abitudini e mi dispiacerebbe se politici che non pensano agli italiani svenderebbero l'Italia. Mi piace il tuo ragionamento, Linda. Bene, io ti ringrazio, ti ringrazio davvero per essere stata con noi e per averci voluto raccontare la tua esperienza. Ti faccio i miei più sinceri auguri di buona fortuna per tutto. Tantissimi saluti. Grazie, buona serata. Auguri. Grazie. Grazie.